Amici della Serie A, buonasera da Gianmarco Cervi, bentornati allo Spezia Park, prima giornata della Serie A 2016 In campo Black Horse e Bayer, due squadre esordienti Squadre già schierate al centro del campo, non ci sono difficoltà cromatiche oggi Black Horse, maglia bianca, pantaloncini neri, che attaccherà probabilmente da sinistra a destra con Bonaccini tra i pali Poi Galeotti, Tiso, De Fazio, Ojai, Pavesi e Maifredi Dall'altra parte risponde la Bayer, o il Bayer, vedremo se sarà degno dei cugini tedeschi che militano in Bundesliga Attenzione a Fiore che si gira, punta la porta, Fiore e Bonaccini Intanto è entrato Martelli Ojai! Eccolo il gol di Ojai per il vantaggio Black Horse Gran controllo e mancino all'incrocio dei pali, 1-0 Maifredi, subito, Maifredi, si libera Maifredi! Una giocata pazzesca di Maifredi Maifredi, Maifredi, recupera il pallone, Maifredi! Palla fuori di un nulla L'uscita di Sebastiani, poi Fiore, Fiore, doppio dribbling di Fiore Fiore, serve a Tolico, che caccia in diagonale! E il pareggio del Bayer con Attolico, ben servito da Fiore, diagonale, Bonaccini battuto, 1-1 Arriva il duplice fisco di Lattarulo che manda le due squadre a riposarsi per qualche minuto Finito, gran controllo, sulla sinistra, va col mancino, per non è che arriva Fiore Fiore calcia! Dopo 10 secondi del secondo tempo arriva il gol di Fiore che porta in vantaggio la Bayer Di Pede, di Pede, accelera di Pede, di Pede, di Pede, di Pede! Che gol di Pede per il 3-1, è entrato di Pede, la Bayer ha svoltato, strepitoso questo giocatore, fantastico, manavrato da Gasparetti, Gasparetti fino in fondo, Gasparetti al centro per il corpo di testa! 4-1 di Fiore! Attenzione, calcio di rigore, fallo di Gasparetti su Pavesi, ingenuo qua Gasparetti, esperienza qua Pavesi, tanta esperienza Calcio di rigore per il Black Horse C'è Pavesi, contro Sebastiani, parte Pavesi! E la para Sebastiani, incredibile! Però c'è ragione, sei troppo vicino Pavesi di prima intenzione col mancino, come calcio a Pavesi, mamma mia Facciamo il movimento dei suoi, Tiso, vediamo se va in porta, calcio a Tiso Ancora calcio di rigore, ancora fallo su Pavesi, ancora calcio di rigore per il Black Horse di nuovo, vediamo se questa volta Pavesi la mette Questa volta va a Tiso, sbaglia ancora, non ci credo, ma Sebastiani è un eroe, pazzesco Attenzione, ma il Freddy va giù, e questa volta Giai la mette dentro Sull'assist di Maifredi, che si è buttato cercando il terzo rigore 4-2, può succedere ancora di tutto De Fazio, dentro per Ojai, Ojai la piazza! Super gol di Ojai, 4-3, 4-3 Gli ultimi minuti saranno bellissimi, gran gol di Ojai In avanti Belotti, per Fiore, che può chiuderla, ma calcia fuori Arriva il triplice fischio di Lattarulo, che decreta la vittoria della Bayer 4-3, partita bellissima contro un Black Horse, che comunque ha venduto cara la pelle Era partito anche in vantaggio, ma poi è finita malissimo Super spot, e li si anticipa la prossima giornata